Ragasoli prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati Grazie e buona visione Ragasoli tante novità in arrivo per Minecraft console, buona visione Buona visione, buona visione, buona visione Buona visione di questo nuovissimo video, sono Cristo187 e siamo con oggi negati con un nuovissimo video Informazione sul nuovo aggiornamento Questi tipo di video vi piacciono un sacco, io non riesco a capire ancora il perché Però è una cosa bella ed è interessante perché troviamo un'informazione, un qualcosa, ne discutiamo insieme E la cosa più bella appunto è la vostra risposta, è il vostro resoconto Quindi ascoltate quello che vi dico, lasciate un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto Arriviamo a 500 like, ci teniamo bassi come al solito, non voglio mai esagerare Arriviamo a 500 like ragazzi per altre informazioni Detto questo, una volta che vi ho fatto sentire la notizia, scrivetemi in descri... Cioè su, in descrizione Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate Detto questo, vediamo insieme, non vi voglio anticipare niente Command block, servers, bedwars, skywars, custom skins, texture packs, mods, all the stuff you guys have been asking for That's all gonna come in 1.2 Quindi, bedwars, skywars, command block, custom skins, quindi skin personalizzate, skywars E tutte queste belle cose in arrivo con il nuovo aggiornamento Inoltre, ragazzi, ci informa anche dell'arrivo delle mod Ora, secondo me non saranno mod vere e proprie all'inizio, ma saranno semplici addons Però di questo poi ne parleremo, logicamente più avanti Questa notizia, ragazzi, è una bomba vagante Quindi vuol dire che col nuovo aggiornamento Che, credo, la data di uscita sia più o meno ad autunno Quest'autunno Non vi do ancora date precise perché nemmeno io le so Però, ragazzi, abbiamo queste informazioni bomba Tutti i minigame, tutte queste cose, tutte le cose che abbiamo sempre voluto su Minecraft Arriveranno tutte insieme in un unico aggiornamento Ed è questo, appunto, è stato confermato da questa signora che parla nel video Ora, proprio per scaramanzia, lo risentiamo insieme Cosa dice, cosa ci fa Command block, servers, bedwars, skywars, custom skins, texture packs, mods All the stuff you guys have been asking for That's all gonna come in 1.2 Va bene, ragazzoli Quindi questa informazione è davvero una gran figata Ora, il mio quesito era Ma le skywars, bedwars e tutti questi minigame Arriveranno nella sezione minigiochi Quindi nella sezione multiplayer Nella sezione... ho sbagliato il joystick, scusate Nella sezione multiplayer, minigiochi Queste cose qui O verranno aggiunti all'interno dei server preostati da loro Perché a me sembra davvero strano Qui ci hanno lasciato battaglia, crollo e planata Ma mancano dei minigame E a mio parere, ragazzi, verranno aggiunti su dei server dedicati Nella sezione minigiochi Quindi compariranno qua sotto, appunto, bedwars, skywars, build battle Tutte queste cose insieme Inoltre, con il nuovo aggiornamento Better together Verrà aggiunto anche il command block Quindi, ragazzi, oh mio Dio Il command block su console Cambierà il gioco Davvero Si potranno inserire mod one command Cioè... Il mondo di PS4, ragazzi E di tutte le altre console Sta per cambiare Riguardo il crossplay Perché sapevo che me l'avreste chiesto E che volevate saperlo Non si sa ancora un bel niente Sony è rimasta sempre sulla solita Solfa Secondo me, ragazzi, accetta Perché se non avete visto il video dove ne parliamo Lo trovate qua sopra Secondo me, Sony accetta Anche perché altrimenti si ritroverebbe penalizzata E addirittura potrebbe essere anche cancellata Dallo store di Sony Quindi, per forza, secondo me Troveranno un punto d'incontro E farà anch'essa l'aggiornamento Better together Molti di voi hanno detto Bah, speriamo di no Speriamo che non facciano l'aggiornamento In realtà, anch'io all'inizio pensavo Che Sony si fosse salvata Con questo non aggiornamento Però in realtà Con i fix E con le cose che hanno fatto Secondo me Unificare tutte le console Con le altre È una davvero bellissima cosa Soprattutto per me, ragazzoli Che io ho solo PS4 e PC Poter giocare anche con chi ha il telefono O con chi ha la Wii O con chi ha l'Xbox A mio parere È una cosa davvero molto fantastica Così da poter giocare con tutti voi Divertirci insieme E gustarci un po' Questa esperienza di gioco In modo amplificato Detto questo, ragazzoli Vi ringrazio tantissimo Per i 50.000 iscritti Io in questo periodo Sarò in vacanza Perché dopo un anno di video E live Una dietro l'altra Ho deciso appunto Di farmi una settimana Una settimana e mezza Di pausa I video continueranno ad uscire Quindi lascio il canale a voi, ragazzoli Gestitelo voi Come meglio vi pare I video usciranno in automatico Come sempre Alle 11.30 Quindi ogni giorno Andate, supportate il video Gustatevelo E poi fatemi sapere Cosa ne pensate So che molti di voi Vanno in vacanza Dove vado io Infatti l'ultima volta Ne ho già incontrato Qualche mio piccolo fan Voi non vi preoccupate Se mi incontrate Fermatevi pure A me non dà fastidio Detto questo, ragazzoli Io vi ringrazio ancora tantissimo Per la visione Vi informo che sarò Al Games Week Di settembre Quindi organizzatevi, ragazzoli Perché Saremo lì Tutti lì Io e Vince Faremo un bordello E quindi ragazzoli Ci divertiremo un sacco Io vi ringrazio tantissimo E noi ci becchiamo Nel prossimo video Bye Ciao